Andare verso la partenza Sostituisce Giuseppe Ruocco 7 Feitendo per Roberto Vecchione per Orgelert 8 Francisco Santos Gasparello Verde 9 Floridia 3B Davide Angeletti Ancora per Gasparello Verde Emergono i cavalli Al centro dello schieramento Già prima dello stacco Ma poi per l'interno rinviene anche Il 2 di Figlio dei Venti Che tuttavia non riesce ad opporsi A Flashpoint Col Flashpoint Col Che viene però impegnato da Flamenco Ferre I 200 iniziali in 13-1 Con Flamenco Ferre Che attacca e sopravanza Flashpoint Col Ha sbagliato Francisco Santos All'esterno Gravita Fate Endop Che però riesce A sistemarsi in terza posizione Mentre Flamenco Ferre Tiene il via libera Da Flashpoint Col Quarta posizione Per il numero 5 Di Finance Lady Par Davanti a Fulmine DBL Che a sua volta Precede Floridia 3B E ancora Falco Trio Ha sbagliato Anche Figlio dei Venti Dalla retroguardia Prova ora Ad avanzare Falco Trio Sposta Dalla Quarta posizione Finance Lady Par In anticipo Mentre il mezzo miglio iniziale È in 59-7 Si affaccia a largo Anche Fate Endop Parato prontamente Da Flashpoint Col Guadagna Tante posizioni In corda Fulmine DBL Mentre Flamenco Ferre Completa il primo giro In 1-14-6 Avendo al Salchi Flashpoint Col Che ha anticipato Fate Endop Al cui interno Ora c'è Fulmine DBL Poi seconda corsia Anche per Finance Lady Par C'è Honda Dopo 1-2 In 1-29 secco Con Disposizione a ventaglio Di Flamenco Ferre Flashpoint Col Fate Endop Quindi Finance Lady Par A centropista Fulmine DBL La corda Si difende ancora Flamenco Ferre Dagli attacchi di Flashpoint Col Per l'interno E migliora Fulmine DBL Al centropista Finance Lady Par Nel finale Flamenco Ferre Che si difende Da Flashpoint Col Finisce forte Finance Lady Par Vince Flamenco Ferre Su Flashpoint Col E Finance Lady Par Che finisce forte A battere Fulmine DBL E dunque 6-4-5 L'arrivo ufficioso Della quarta Di Capanelle 1-58-1 Sul mio cronometro Significa media di 1-13-8 Per la vittoria Di Flamenco Ferre Il Sauro Danesta F allenato Da Giuseppe Ruocco L'interprete è stato Antonio Simioli Che ha sostituito Proprio Giuseppe Ruocco In Salchi Al portacolori Della scuderia Frecciarossa Che si difende Molto bene Da Flashpoint Col Dal quale aveva Ottenuto Il via libera Dopo 200 metri Al terzo posto Con bella progressione In terza ruota Finance Lady Par Su Fulmine DBL 6-4-5 E la linea che torna Ad Andrea Zanoboni Grazie a tutti Grazie a tutti